Benvenuti ragazzi, bentorni in questo mio nonissimo video, non mi ricconare, grazie Allora, mo, 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 faccio l'ultimo livello E l'abbia finito, cioè io questa mappa la finisco per la prima volta Veramente E l'ha detta di 100 livelli Sopra a sinistra sta, cioè sopra a centro sta il codice, se lo volete fare L'ultimo livello è difficile Ok Questo è impossibile Eh, come, raga Battite le mani, per me Eh, vabbè Ho parlato praticamente No, che so, è più difficile, non ti preoccupi Ok Ah Vabbè con la doppia impulsa Facilissimo Ah, forse ho capito qual è No, no, vai Ma, allora, facciamo sempre il nostro cristampone, perché oggi stai così serio? Ah, fa un culo Come ne tu è morto? God, no, è così Dai, devo capisciare Oh, no La devo completà Come stavo dicendo Dai Ma perché hanno fatto proprio con i dubbi di merda? Bene, che sta cosa Ah Aspetta, fammi vedere Ah, è facilissimo Ho capito qual è No, basta Bene, bene, cioè Facilissimo Non è vero Non è vero Non è vero Mi scivola Mi ma Basta Ah, sta malvino Basta, voglio morire Grazie Cioè, sembra essere troppo gentile, guarda Non è vero 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 Senti, dalle impuzze Eh, come fai Ritorno indietro, ritorni indietro Non si vuole Non si vuole Orco schifo Sì, c'è da puoi fare La puoi fare Ma si scivola Come si fa? Si scivola Aspetta Fermo Fermo Mettimela dietro l'impulso Eh, sì Ma Me la devi mettere dietro Vai, mettimela dietro Eh, che cazzo Vabbè Aspetta, la cibo No, pure Eh, no No Allora, me non puoi stare fermo Perché, cioè Devo cercare di salire sul tutto Per prendere tanti Perché non so Salire sul tutto E' vero No Mamma mia Scemmi Scemmi Corri piani Quello hai fatto Ah, questa cosa mi fa incazzo Guarda Mi cammina lento Ok, salivati Non le posso prendere Ma, ma Allora Il fatto che questo livello è facile Che mi corre piano Non le posso prendere voglio morire mamma c'è prima di iniziare il video tutto convinto raga oggi è la mia prima volta l'impulso una scritta bianca perché ok che cazzo è fatto no ma voglio morire in teoria se io morissi mi farebbe un grande favore come ok la posso fare ti devi devi stare fermo ok no vabbè qua è facile no dai no e vabbè da lì si vede mi rompino non mi guarda ma se no no mi dai 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 no 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 ma non è che ci può fare una cosa tipo così che ci può triggerare queste cose no eh ma si può costruire no 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 non si può triggerare eh raga come cazzo si fa sto giallo di merda dai 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 mega guys grazie ma in un' alla fine è per per guardare come l'hanno fatto no 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 video stef per mentre leDRņi 100 livelli duff né il ha già livelli che sto credo che è bravissimo io capivo come l'ho fatto avanti 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 allora come ho fatto è lui 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 sbagli qui il problema ragazza fatto questo qua ho capito devi mettere l'impulso sotto ai tuoi piedi ho capito l'ho preso il checkpoint guardate l'ho preso il checkpoint no come ma l'ho preso il checkpoint lo avete visto schippate il livello dai non l'ho preso no no Ah! Mori! Ah! io con questo livello 102 e auto mi darà va è visto guarda rispondo guarda per arrivare a livello sotto qua forse e dai paris scena dammi grazie no è solamente di vita e guarda le spawn eh hai visto vediamo vediamo un po' allora forse ho capito dove come cazzo la puttata ehia basta eh mille lo sai le elimino questo video no elimino questo video è rotto cazzo allora forse ho capito oh no qua ah 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 il bello che voglio arrivare ma se facciamo così oh ci stanno mato cazzo frate oh ah ah ahah andeggi li diveni otto Sì Vado Non mi sono l'aria Sotto in pulizio No No Da lì Oh Berta piccolare Ci ha rotto il cazzo Sto gli old man Dice anche la parola Livello di merda Ahahahah Sì Sì Non lo so Ok Dai Ah Ma è vero C'è l'impulso Eh vabbè Cristiano Eeeh Io già ho pesciato Ho pesciato Ho pesciato Ho pesciato Ma come aspetti Eeeh 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 Ok Qua giustamente c'è una trappola Come l'hai fatto sto livello Non lo devi assolutamente Eeeh Come gatti si triggera sta trappola Non è quasi uno in due triggerare questa trappola di merda Ah forse ho capito Eeeh 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 Ho capito dai avevo preso la punta al primo tentativo è possibile su livello io voglio picchiare quello che ho fatto con tutta la volatilità perché non mi sa la far prendere vabbè raga diciamo che questo livello è il livello 100 spero che vi è piaciuto uscire un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e chiamate la campanellina e che direi che è bella raga ho completato quel livello che era difficilissimo quindi diciamo che quel livello era 100 bella